Come ogni anno, nel giorno della Pentecoste, garriscono al vento i vessilli della nobile terra de Monte Robiano. I preparativi fervono alla cremente. La Pentecoste 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 a quanto pare non è vita da dove anzi deco a san rocco niente a fondo grande pure io lo spi idem e bo come facciamo che si è fatto bene non mi dì che si è trovato la pica esci e questa è volata via come volata via appena mi ha visto ma chiesto se ne ero vaccinato e io gli ho chiesto dici poi siamo fatti dovevamo la fa e la pica si è volata via